Ciao a tutti, sono Silvia. Come sapete in questi giorni il Movimento 5 Stelle sta raccogliendo le firme per poter presentare le liste in più di 500 comuni d'Italia. Oggi pomeriggio ho ricevuto l'appello di Leana, che saluto, attivista storica di Terzano su Naviglio, nel quale mi raccontava che loro stanno avendo un po' di difficoltà a raccogliere le firme per via del fatto che il loro comune è stato commissariato e quindi non hanno nessuno che riesca ad autenticare queste firme. E quindi c'è bisogno che i cittadini si arricchino in comune. Ho deciso di fare il mio appello e invitare i cittadini trezanesi a recarsi presso l'ufficio elettorale di via 4 novembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Ci vuole un minuto per permettere alla lista di Trezzano di presentarsi a queste amministrative. E lo stesso appello lo voglio fare a tutti i cittadini dei comuni presso i quali il movimento si sta presentando. Andate a firmare presso gli URP, i comuni, oppure informatevi dai meetup o dai gruppi del movimento locale. Mi raccomando, firmate per voi e come al solito, vinciamo noi! Ciao!